Amici telespettatori, eccoci con Polifemo. Daremo vita ad una serie di puntate in cui ci occuperemo di infrastrutture e trasporti che riguardano l'area ionica, l'area della regione Puglia in generale. Ci soffermeremo in modo particolare sul trasporto aereo. Cercheremo di confrontarci, di intervistare vari soggetti che operano nel settore e cercheremo di andarli a beccare per così dire ora qui ora lì per avere un quadro il più composito, il più completo possibile analizzando appunto le varie sfaccettature diciamo da varie angolazioni. Incominciamo allora, iniziamo questa prima puntata, dicevo infrastrutture e trasporti e siamo, ho il piacere di avere al mio fianco il dottor Giovanni Lacava, sociologo della mobilità. E allora parliamo intanto, tracciamo un quadro su questa realtà di infrastrutture e trasporti che riguardano l'area di Taranto, l'area ionica e più in generale, in modo più ampio, l'area della regione Puglia. Sì, buonasera. È giusto introdurre l'argomento parlando di infrastrutture perché a Taranto abbiamo le infrastrutture ma purtroppo non rendono al 100% l'idea del trasporto. Abbiamo una fortuna di stare in una zona che è servita dalle ferrovie dello Stato, quindi c'è la rete ferroviaria italiana che gestisce le strutture, le stazioni ferroviarie, i sistemi di trasporto, dell'energia e abbiamo un ottimo eccellente mare con una spero stazione marittima perché parliamo anche del trasporto turistico, perché quello commerciale è già in atto e speriamo che tra breve quella che fu una volta Taranto con il trasporto dei container possa ritornare nuovamente a essere un porto interessante nel Mediterraneo. Ricordo che quando venne la Evergreen, parliamo direttamente del vettore, Taranto non aveva ancora completato la sua rete infrastrutturale per cui fu necessario completare questi servizi specialmente per il trasporto da mare a ferrovia, mentre il mare gomma era, siamo a Taranto, sapete benissimo che c'è un'autostrada anche se si prende a Massafra, comunque una volta arrivati alla stazione dell'autostrada di Massafra noi possiamo raggiungere tutta Europa, questo per via gomma. Sappiamo anche che è interesse di tutti i governi, compreso quello italiano, di favorire il trasporto su ferrovia per ovvi motivi di inquinamento, per cui se un convoglio ha 20 container, 20 vagoni, 20 container, per quel convoglio sono 20 autotreni in meno che inquinano. Quindi dicevo che per quanto attiene le infrastrutture Taranto ha una posizione di privilegio perché abbiamo la ferrovia dello Stato che arriva fino a Lecce, abbiamo il porto che potrà assolvere le funzioni di porto commerciale e porto turistico, abbiamo altri servizi che attengono i servizi marittimi, poi su Taranto ormai da qualche anno c'è una certa polemica sul funzionamento a singhiozzi della struttura aeroportuale che speriamo a breve possa essere funzionale con tutte le specialità che vogliono dare a questa infrastruttura e quindi con l'infrastruttura aerea completiamo quelle che sono le infrastrutture dell'arco ionico Tarantino. Però sappiamo anche che dall'altra parte della nostra penisola ci sta la linea adriatica che ad oggi è sicuramente meglio servita di quella ionica, noi se vogliamo andare a Roma per avere un servizio più celere magari andiamo a Bari, a Bari poi prendiamo dei treni più veloci che ci fanno raggiungere sia Roma che poi la distruttura adriatica, Ancona, Bologna, Milano e via discorrendo. Dobbiamo però lamentare un carente servizio per le destinazioni calabrese siciliane perché noi è di questi giorni che il Ministro Toninelli ha messo a disposizione quattro intercity a Reggio Calabria per cui si può collegare con maggiore facilità e frequenza Taranto con la Basilicata, con Metaponto e con la Calabria. Però io le cose le voglio vedere in una maniera un po' più completa, non è importante avere soltanto Taranto con Reggio Calabria ma è importante avere che da Reggio Calabria si arrivi a Taranto si prosegua per Brindisi e si va da Lecce perché da Lecce si può andare a Reggio Calabria e non magari come succede adesso a Taranto che se vuoi andare a Lecce devi prendere un treno regionale per Brindisi poi devi scendere da Brindisi, fare uno scalo diciamo in termini aeronautici, uno scalo a Brindisi e poi andare a Lecce quando in realtà potremmo avere un collegamento diretto. Però non voglio entrare nel merito della programmazione del traffico ferroviario. Dico soltanto che da questo versante, cioè quello ionico lucano calabrese, siamo serviti in maniera un po' più scadente, diciamo termine scadente rispetto a quelle che sono le opportunità che vengono date sul settore adriatico. È anche giusto perché Bari è capoluogo di Regione e ha maggiore importanza rispetto alle altre province, però anche le altre province devono poter esprimere al massimo le loro potenzialità. Bene, abbiamo tracciato questo, abbiamo fatto questo primo passaggio, ma mi interessa sapere da Giannetto Lacava qualcosina sui trasporti aerei. Una piccola anticipazione perché poi ci trasferiremo da altri interlocutori e poi magari al termine di questa prima puntata faremo un po' il bilancio, il consuntivo, concluderemo con alcune sue riflessioni. Ripeto, abbiamo deciso di spostarci qui e lì proprio perché vari sono i soggetti, gli operatori del territorio ed era giusto intercettare il loro pensiero e la loro attenzione. Proprio un flash sul trasporto aereo. Diciamo che in questo periodo Grottaglie-Taranto, l'aeroporto di Taranto è all'attenzione anche di organi istituzionali di un certo rilievo, compreso anche il Ministero. Stanno lavorando su Taranto, Grottaglie e siamo in attesa di sapere quale sarà il destino di questo aeroporto. Io personalmente do poca importanza, anche non importanza, valuto con una certa cautela le iniziative che si vogliono prendere nel settore aerospaziale anche perché dobbiamo dire che tutto ciò che fino a ieri si chiamava aeronautico adesso si chiama spaziale. Si cambiano un po' i termici, si modernizzano, si vuole dare un'idea diversa, però il concetto alla fine è sempre quello. Il concetto è che su Grottaglie ancora dal punto di vista aeronautico non si vede un servizio efficiente, almeno per le persone, perché io ritengo che non esista un aeroporto industriale per definizione, almeno sul codice della navigazione. Non ho letto che ci siano aeroporti industriali né tante altre cose che si vorrebbero fare su questo scalo. Naturalmente sullo scalo ci sarebbe da dire più di qualcosa perché esiste come in tutti gli scali nazionali, europei, internazionali, ci sono dei gestori. Premetto e non voglio fare nessun processo ai gestori perché i gestori che stanno gestendo lo scalo di Taranto, il gestore lo conoscete tutti, è la società Aeroporti Puglia che è una società a partecipazione quasi totale regionale. Quindi diciamo che è la politica a mio avviso che decide i destini, tant'è che si fa tutto in funzione di quelle che sono le strategie che decide la politica. Però io credo che a Taranto nonostante l'aeroporto non dia soddisfazione ai passeggeri fino ad oggi, ci sono delle attività che si svolgono ma che nessuno magari conosce, ci sono attività di tipo aeronautico che si svolgono con grande successo. Mi risulta che ci sia anche una società che si occupa proprio del trasporto delle persone e gruppi di persone. Non vorrei anticipare ma penso che a Taranto sia soltanto quella che conosciamo la Solair, una società che si occupa appunto di trasferimento di persone, di gruppi e io immagino e spero che la possiate contattare perché vi può dire qualcosa di interessante su quello che è lo sviluppo che dà un aeroporto e di conseguenza anche questi operatori del settore aeronautico se hanno la possibilità di avere anche un aeroporto nella sede dove loro operano e ancora tanto di guadagnato per il territorio e per tutti. E allora ci congediamo momentaneamente dal dottor Lacava e cercheremo di saperne di più appunto sulla Solair. Abbiamo così tratto spunto dall'input, dal suggerimento, dall'assist che ci ha fornito il dottor Giovanni Lacava e quindi abbiamo cercato di capirne di più, come detto, sulla Solair. Eccoci con Francesco Gravina che è appunto il responsabile operativo e commerciale della società Solair che opera in ambito di brocheraggio e di consulenza aeronautica. E allora tracciamo un po' il profilo di questa Solair, quando è nata, perché è nata e poi a beneficio degli amici da casa, dei telespettatori tv, del popolo internet, del popolo social proprio cerchiamo di capire cosa fa in concreto e quali benefici apporta al territorio perché noi vogliamo parlare di queste realtà, di queste società, non solo dal punto di vista meramente imprenditoriale. Se ci limitassimo a questo sarebbe un'attività giornalistica di sponsorizzazione, fine a se stessa. Noi vogliamo far comprendere i benefici che un territorio riceve da questo tipo di attività. Prego Gravina. Buonasera innanzitutto della circostanza che ci permettete di presentare la nostra attività. Noi siamo i soggetti che operiamo dietro le quinte di tutte quelle operazioni in macro dove ci sono tutti gli spostamenti di passeggeri, di aerei che si muovono un po' in tutta Europa. Noi siamo al servizio diretto di tour operator per quanto riguarda le loro esigenze, squadre di calcio, voli di stato e anche per quanto riguarda voli esecutive, aerotaxi. Quindi svolgiamo tutte queste attività per tutta una serie di clientele sparsi un po' in tutta Europa. Abbiamo definito quello che è il con chi opera? La parte operativa, poi c'è la parte di consulenza aeronautica perché noi siamo al servizio di molte compagnie che ci chiedono di individuare e di rappresentarli giù in Italia compagnie straniere perché la deregulation del mercato europeo permette a molte compagnie della comunità europea di operare in Italia. Un esempio, una compagnia di bandiera rumena, una compagnia di bandiera bulgara, una compagnia di bandiera maltese può tranquillamente operare in Italia sia per i voli di linea che per i voli charter. Per quanto riguarda la linea e i charter, loro esternalizzano questa loro esigenza di avere un rappresentante sul territorio e fanno una ricerca, fanno un audit qualificativo sulla società, su come agisce, sul loro staff e su tutto e poi danno una procura, un normale incarico di rappresentanza sul territorio per queste compagnie. Noi ne rappresentiamo cinque europee, sino a un paio di anni fa siamo stati agenti unici in Italia per una compagnia di stato della Bosnia-Herzegovina, la BH Airlines, che abbiamo operato e abbiamo avuto anche il piacere di farla volare da Taranto per alcuni voli che sono stati fatti nel 2011 su Sarajevo. È stato un successone. Abbiamo sfatato l'incredibilità di molti soggetti che non credevano nella nostra realizzazione. Noi abbiamo operato con normale tranquillità, come noi operiamo su tutti gli scali europei e tutti gli scali italiani. Abbiamo rapporti per consulenza e rapporti diretti con tutti i gestori degli aeroporti in tutta Italia. Tutti quegli addetti ai servizi che svolgono attività, le servizi sociali, le società di jet fuel, serviamo un panorama a 360 gradi. Quindi quando ci viene fatta una richiesta, noi abbiamo il centraggio operativo, come potete vedere sui nostri monitor, che sono sempre aperti, il moncetraggio operativo, sappiamo in punto a punto dove sono ubicati gli aeri, quali sono le loro operazioni future e in maniera tale da poter dare nel più breve tempo possibile la migliore offerta e la migliore soluzione al cliente, al tour operator che ci viene a fare la richiesta a noi. Gravina, abbiamo parlato appunto di questo ruolo che svolge la Soler e avete appunto, come lei ha avuto modo di evidenziare, il monitoraggio di tutte le compagnie che avete gestito o state gestendo. In buona sostanza, può dirci parecchio, proprio perché avete, come dire, il termometro, ecco, siete il termometro dei traffici, un monitoraggio continuo, perpetuo, che tasta la temperatura. Sì, in effetti, se lei può notare, magari, noi qui abbiamo una, noi operiamo molto con l'Europa dell'Est, qui abbiamo un'ampia mappa. Si vede la Romania. Romania, Bulgaria e Moldova, la Moldavia, abbiamo una mappa fisica dove noi abbiamo fatto un'analisi precisa perché noi abbiamo studiato la catchment area, in questo caso, un po' per fede, un po' perché è un'opportunità perché a volte non sempre, anche dalle situazioni negativi, bisogna sempre cogliere l'ottimo positivo di quello che c'è di positivo, anche da una situazione negativa. Io sono un positivista di natura, di carattere, come persona. E ogni tanto un pizzico di questa positività in questo... Ci vuole. Ci vuole, in questo periodo, specialmente per l'area dell'Arca. Il lagnarsi non porta a nulla. Non produce nulla, non produce nulla. Quindi noi abbiamo fatto uno studio, una catchment area sull'area di Ionica, che va a un raggio sino di 250 km da noi, per un traffico outgoing ed incoming, possibile dall'aeroporto di Taranto per alcune destinazioni dell'Europa dell'Est. Questi dati sono stati addirittura confermati, perché poi hanno altri indici di natura operativa, ultima relazione abbiamo fatto per la Tarom, la compagniera di Stato della Romania, dove hanno verificato con il sistema IATA TTP tutta la biletteria che viene dalla catchment area dell'area Ionica per queste destinazioni dell'Europa dell'Est. Naturalmente è un work in progress, si va a step, perché noi ci occupiamo se veniamo interpellati. Siamo stati interpellati per cercare nuove aree, anche perché con il vario avvento da questi anni, con le compagnie low cost che prendono contributi di Stato, contributi europei, fanno una concorrenza un po' sleale, rispetto a compagnie che offrono servizio tradizionale, senza affanni. Quindi queste compagnie di Stato sono alla ricerca di nuove aree di mercato. Quando veniamo interpellati, noi praticamente, se veniamo interpellati per le aree del Sud Italia, appuntiamo sempre l'attenzione sull'aeroporto di Taranto. Lo facciamo. Non siamo preposti, perché queste operazioni dovrebbero essere preposte il gestore o chi meglio, la figura del direttore generale della società di gestione. Dovrebbe curare le promozioni. Noi lo facciamo, perché siamo sul territorio, perché porterebbe un indotto economico, occupazionale notevolissimo. Eccoci con un altro operatore, un altro soggetto, perché stiamo cercando di analizzare così il quadro attraverso più voci e siamo con l'amministratore unico della Soler, il dottor Luigi Russo. Tanti gli argomenti un po' alla volta. Intanto, vista la unicità nel Mezzogiorno d'Italia della società Soler, approfondiamo un po' il tema dei rapporti con i tour operator nazionali ed internazionali. Diciamo che noi dall'anno in cui ci siamo costituiti abbiamo avuto un grosso sviluppo. Chiaramente operiamo su tutti gli aeroporti, in particolare lavoriamo sugli aeroporti del Sud Italia. E chiaramente su questi aeroporti noi abbiamo grossi clienti che ci richiedono sistematicamente i nostri servizi, che abbiamo già sottolineato, sono di trasferimento di gruppi di turisti attraverso le compagnie che noi contattiamo e che mettiamo a loro disposizione. Abbiamo appresso di una disponibilità H24, ivi compresa quella notturna. Certo, perché noi cerchiamo di rispondere a tutte le esigenze dei nostri clienti, specialmente quando anche altri nostri concorrenti non riescono a soddisfare queste esigenze. E quindi noi diamo tutta l'assistenza H24 anche durante i voli notturni, specialmente su determinate tratte e su determinate esigenze. Ecco, mi incuriosiva alle nostre spalle questa, io lo dico volgarmente, questa mappa, questo pannello. Di cosa si tratta? Praticamente in questa situazione noi riusciamo a individuare su tutti gli aeroporti, con il programma Flacco, mi pare sia la Norvegia, vedo questo spaccato. Diciamo sugli aeroporti gli aeri che sono in movimento e i nostri aeri che stanno in trasferimento da punto a punto, da un aeroporto ad un altro. Noi riusciamo a seguire con questi programmi tutti questi spostamenti e sappiamo sistematicamente a che punto è il nostro servizio. In questo momento si vedono gli aeroporti, però se noi andiamo poi a precisare l'attività di servizio vedremo tutti gli aeri che si spostano in questo preciso momento. Mi piacerebbe affrontare così alcuni aneddoti, alcuni momenti per così dire di vita vissuta, dovrei dire di attività, momenti che hanno accompagnato la vostra attività. Penso per esempio al rapporto che avete avuto, al contatto, quindi al rapporto con la famiglia reale saudita. Certo, l'anno scorso c'è arrivata questa gradita richiesta da parte di una grossa struttura pugliese per il trasporto della famiglia reale. In pratica il figlio del presidente con la sua famiglia si doveva spostare dal luogo dove era ospitato in Puglia dove andare in Sicilia a Pantelleria. Noi in pratica abbiamo subito risposto, abbiamo dato subito una risposta con un servizio del tutto full, tutto completo, quindi con il catering adatto per, diciamo, all inclusive. Diciamo, loro sono rivasti molto soddisfatti perché chiaramente il direttore commerciale ha assistito la famiglia reale dalla partenza fino all'arrivo a Pantelleria e anche durante tutti gli spostamenti, noi abbiamo dato anche servizi di questo tipo, quindi noi riusciamo a dare un servizio completo, non solamente una quotazione, non solamente una consulenza, ma riusciamo veramente a soddisfare completamente il nostro cliente. Dicevamo, è una realtà unica nel mezzogiorno d'Italia. Certo, ecco, più ci muoviamo e più facciamo esperienze, più ci rendiamo conto che la Soler oramai si è fatto un nome a livello di centro-sud unico perché veramente non solo come società ma anche come servizi siamo riusciti a posizionarci veramente molto bene a livello di centro-sud ma anche a nord Italia, diciamo, la situazione che è questa in evoluzione. Ritorniamo da Francesco Gravina, responsabile operativo e commerciale della società Soler. Vogliamo vedere come si opera, come operate così nel concreto. Allora, immaginiamo che vi sia un gruppo che si trova nella città X, Napoli, e che ha la necessità di andare a Vienna, dico Vienna per dire una qualsiasi città. Ecco, come vi interfacciate, come operate con il Tour Operator? Allora, i clienti... Facciamo questa domanda proprio per, come dire, rendere l'argomento concreto perché se no uno potrebbe dire ma nel concreto cosa fanno questi? Di cosa si occupano? Allora, apriamo una piccola parentesi. Vogliamo chiarire innanzitutto che noi non serviamo il pubblico, noi non siamo a contatto col pubblico. Noi siamo a contatto esclusivamente con i Tour Operator che già sanno quali sono le loro esigenze che ci trasmettono, ci richiedono con le date, con la richiesta di capacità aeromobili, una capacità da 150-200 passeggeri circa, e le frequenze che loro hanno bisogno. Poi sta a noi individuare e proporre la migliore soluzione valutando determinati variabili. La prima variabile qual è? Se parte da Napoli e deve andare a Vienna, bisogna prendere o un aereo che è in zona di Napoli, Napoli o Roma o la Mezzaterme o Bari, o tanto meglio se fosse anche Taranto, perché ha un raggio più vicino di avvicinamento, perché quell'avvicinamento ha un costo. Diversamente se quel tipo di aereo non dovesse essere disponibile nell'area di Napoli e deve pervenire, faccio un esempio, da Palermo o da Zagabria, ha un costo maggiore, perché quel posizionamento da Zagabria a Napoli vuoto, che va a caricare i passeggeri da Napoli e li porta a Vienna, allunga il tempo di volo e quindi il costo lievita pro capita e asseggiolino al Tour Operator. Quindi noi siamo bravi a fare questo, cioè a scendere la quotazione. Molto spesso ci capita in fine settimana perché serviamo le squadre di calcio di serie A e di serie B e quindi noi si rivolgono a noi perché magari noi utilizziamo lo stesso aereo di una squadra di calcio che dal nord Italia viene al sud e poi dal sud abbiamo richieste per le stesse date che dal sud deve andare e tornare al nord e quindi questo permette di far volare sempre pieno l'aereo, di non avere dei vuoti, dei vuoti di posizionamento e riposizionamento e quindi andiamo a spalmare questi costi operativi e diventa appetibile per entrambi le società di calcio. Bene, ritorniamo da Luigi Russo, amministratore unico di Soler. Vogliamo evidenziare proprio i vantaggi di un charter. Consideriamo proprio, scendiamo nel concreto e così questo discorso teorico diventa concreto, diventa percepibile e comprensibile facilmente. Consideriamo la realtà delle badanti, ce ne sono tante e immaginate, la maggior parte vengono dall'Est, dall'Europa dell'Est, immaginate il tempo, ci vogliono almeno due giorni per andare in Pullman, per esempio in Romania, invece con un charter organizzato in due ore arrivi e questo significa risparmio di tempo ma anche come costo siamo lì. Come costi siamo lì sicuramente, il tempo è sicuramente un risparmio, è l'elemento caratterizzante di questa possibilità che viene data a questi flussi di badanti che partono dalla Sud Italia e vanno in Romania. Anche perché non hanno chissà quanti giorni, hanno 3-4 giorni al massimo in una settimana e quindi devono ottimizzare i tempi. E se immaginiamo che per partire dal Sud Italia e arrivare a destinazione loro impiegano un giorno e mezzo, due giorni, cioè tutto questo tempo è risparmiato e quindi loro riescono a ottimizzare la loro sosta spendendo sempre lo stesso. Siamo alla parte finale di questo speciale Polifemo in cui ci stiamo occupando di infrastrutture e completiamo il giro, il quadro, siamo ritornati dal dottor Gianni Lacava che è appunto sociologo della mobilità, abbiamo ricapitolo rapidamente, abbiamo incontrato, ci siamo sentiti con Francesco Gravina e il dottor Luigi Russo della Solera, abbiamo parlato dei voli organizzati, dei charter e abbiamo considerato l'importanza di questa attività di broker. Cosa ha così da dirci in più? Bene, intanto esiste un broker in quanto esistono delle organizzazioni che ne richiedono i servizi. Ovviamente l'organizzazione più evidente è data dall'operatore turistico, dal tour operator. Il tour operator è una domanda interessante perché specialmente le istituzioni sono molto sensibili ad attivare quei lavori che producono posti di lavoro. Un visticcio di parole che rende l'idea. Però il tour operator sviluppa molti posti di lavoro, perché? Cominciando dal stesso broker che in funzione della sua organizzazione crea dei posti di lavoro. Poi ci sono gli albergatori, vorrei ricordare che quando... Parlando proprio delle singole categorie. Sì, io avevo un foglietto davanti perché volevo semplificare, però siccome la domanda è specifica sul tour operator, io mi sono così, me li sono segnati perché ne vorrei dire a uno a uno quelle che sono le caratteristiche di questi operatori, del turismo e comunque del movimento. Stavo dicendo appunto che quando l'aeroporto di Bari è stato chiuso per migliorie, allungamento della pista e altri lavori che sono stati fatti e migliorie che sono state apportate, mi pare che dalla stampa è venuta una notizia che l'80% delle attività degli albergatori ha subito un danno di circa l'80%, cioè c'è stata una restrizione di posti letto occupati. E quindi gli albergatori giustamente sono i primi, dico giustamente perché sono i primi che beneficiano di questa organizzazione. Insieme agli albergatori naturalmente poi ci sono i vari bed and breakfast, tutto ciò che è l'accoglienza dei gruppi. Poi ci sono le agenzie viaggi che sono quelle che insieme all'organizzatore del tour c'è l'agenzia che è quella che fa il contratto in assoluto con il viaggiatore. Ci sono i servizi navetta, gli autisti, tutto il personale che lavora con i bus perché nel caso per esempio di tour operator che fanno mare aereo insieme immaginiamo che cosa si movimenta in quella maniera. Non a caso sia bari che brindisi sono di grande importanza l'attività delle crociere unite al trasporto aereo. La ristorazione negli stessi aeroporti ma anche nella città perché poi se è un discorso di gruppo che va per turismo ovviamente la città ne beneficia. Non voglio tralasciare nessuno. No perché ci sono anche i villaggi che sono quelli che specialmente nel periodo estivo usufruiscono dei voli organizzati. Possono anche andare con i voli di linea però i voli organizzati sono quelli che fanno grossi movimenti con aerei più grossi e quindi un certo numero di persone che si spostano per raggiungere i punti di villeggiature. Nei quali villaggi ci sono gli animatori, ci sono gli addetti alla musica, i musicisti. Tutto ciò che si muove in funzione di un gruppo che si sta spostando. Naturalmente ci sono le persone, voi sapete che nelle vicinanze di Bari ci sono dei grossi parcheggi perché quando specialmente gli aeroporti non riescono a soddisfare l'esigenza della macchina parcheggiata ci sono questi che ti vengono a prendere con il bus. Altro lavoro che loro mettono tutte queste navette in giro. I lavori noi li avevamo anche su Taranto, l'avevamo appena assaggiata perché è durata poco, per fortuna è durata poco la guerra del Kosovo, la guerra del Kosovo è durata poco per fortuna e però in quel poco, quel lasco di tempo così breve si sono attivate una serie di servizi dalle società di noleggio. Insomma c'è stato quello che normalmente succede negli aeroporti organizzati ma che ahimè a Taranto abbiamo ancora qualche problema. Io sono fiducioso che siccome abbiamo anche parlato del discorso di Taranto non volevo avere toni polemici perché siccome è la politica che gestisce queste cose, come si dice, la politica avrà il tempo di rivedere queste cose e i Tarantini ma non solo i Tarantini perché un aeroporto come l'aeroporto per esempio di Taranto, Grottaglie, non dà soddisfazione soltanto al traffico dei Tarantini. Noi siamo in una posizione che potremmo, mi ripeto, mi ripeto. Repetita Juvent, dicevano i latini. Repetita Juvent, però non voglio essere, come dire, polemico, né polemico né troppo incalzante. Sicuramente quando una cosa è giusta prima o poi si concretizza. Ebbè almeno questo. Bene, allora avete visto una puntata, questa è l'inizio di una serie di puntate, il tema, il filo conduttore e ovviamente infrastrutture e trasporti e ci stiamo soffermando in modo particolare su quello che è il discorso del trasporto aereo. È stata una puntata di presentazione in cui abbiamo voluto far capire, far comprendere l'importanza di certi operatori del settore e che dire, abbiamo programmato ogni mese per un po' di messi, una puntata al mese, proprio anche per monitorare la situazione perché in materia ci sono evoluzioni, speriamo, positive e quindi noi cercheremo, come abbiamo visto la Soler, è lì che fa il ruolo di termometro, riesce a svolgere una funzione di monitoraggio dei voli, noi cercheremo di monitorare. Voleva completare e chiudere dicendo che anche se non abbiamo un aeroporto al servizio del cittadino, possiamo dire che comunque il cittadino riesce a utilizzare indirettamente non l'aeroporto ma i servizi che dà un aeroporto e la Soler, penso che abbiate preso le informazioni del caso, è una di quelle che in proprio ha creato un'attività pur non essendoci un aeroporto al servizio. Bene, e allora dicevo l'appuntamento il prossimo mese, nel mese di novembre, intorno alla metà realizzeremo una nuova puntata proprio per sviluppare con gli operatori del settore appunto questo tema, questo tema importante, infrastrutture e trasporti. Ora però ce ne andiamo in pubblicità, termina qui questa parte di Polifemo e poi al rientro una nuova pagina. Restate con noi.